Kim Kardashian sapeva tutto sulla gravidanza di Kylie, ecco le prove E se Kim Kardashian lo avesse sempre saputo e, soprattutto, avesse già dato indizi interessanti sulla possibile gravidanza di Kylie Jenner? Difficile dirlo con esattezza, ma come ogni cosa che riguarda questa sorprendete famiglia, i segreti e le sorprese non finiscono proprio mai Kim Kardashian aveva dato un indizio. Kylie Jenner non ha ancora confermato la sua gravidanza, ma tutti sembrano ormai convinti che la bella socialite sia incinta di circa 5 mesi A farle compagnia ci sono sua sorella Khloe, a sua volta in stato interessante, e Kim Kardashian, che attende con impazienza allarrivo del terzo figlio attraverso lausilio di una mamma sorrogata E nonostante le voci ufficiali inviino segnali contrastanti, Kim Kardashian potrebbe aver confermato larrivo dei bambini con un enigmatico post su Instagram Poche ore fa, Kim Kardashian ha postato una sua foto in piscina con Kim, Khloe e Kylie, in uno scenario incantevole e, soprattutto, con una caption tutta da scoprire In sé, il messaggio non dice granché, ma chiunque abbia sfiorato una rivista nelle ultime due settimane si sarà reso conto che in quelle quattro parole ci potrebbe essere davvero il significato che stavamo aspettando La descrizione dice solo, te tre o fusi, ovvero noi tre, ma guarda caso in quella piscina ci sono proprio quelle tre Kardashian, Jenner che stanno mandando in tilzi social e il gossip di tutto il mondo con i rumors sulle loro gravidanze, anche sorrogate Che Kim abbia provato a comunicarci qualcosa a parte, naturalmente, il suo esplosivo topless Kylie Jenner, i rumors sulla gravidanza continuano. L'ultima sulla gravidanza di Kylie? La bella socialite avrebbe segretamente speso 70 mila dollari in accessori, attrezzatura e abbigliamento per bambini La fidanzata di Travis Scott, che sull'argomento mantiene le labbra cucite, non sarebbe riuscita a resistere al fascino dello shopping prenatale. O così sostiene TMZ Sarà probabilmente il bambino meglio vestito che avremo mai l'onore di vedere, spiega una fonte anonima alla rivista Come molti di noi amano fare in misura decisamente differente Kylie avrebbe trascorso un po' di tempo a fare shopping online in giro per i migliori siti di accessori e vestiti per bebè, e avrebbe già accumulato abbastanza tesori da riempirci un armadio intero Naturalmente, non vi è ancora certezza sul quando Kylie darà la buona notizia. Nel frattempo, alcuni fan sono andati a ripercorrere i twee di Travis Scott e ne hanno trovato uno che potrebbe segnare il deione di tutta la vicenda Il 12 giugno 2017 il rapper ha lasciato un messaggio sulla sua bacheca, Legit happiest day of my life, ovvero di sicuro il giorno più bello della mia vita. Non ci resta che aspettare la conferma